E ben a tutti ragazzi sono Alessio Nerazzurro e bentornati in questo nuovo video Oggi ragazzi parleremo di questa partita di Champions League tra l'Inter e l'Real Madrid Ragazzi ho voluto fare il video il giorno dopo perché ero veramente, ma veramente incazzato Perché? Come tutti sapete La prima partita di Champions deve essere sempre importante Anche se giocavamo con l'Real Madrid però bisognava dare tutto L'Inter ha fatto un partitone Però, cioè, io adesso vorrei dire una cosa Perché ogni volta che andiamo in Champions non riusciamo mai a fare un cavolo di gol Manco a porta vuota Manco per sbaglio Non lo so So che avevamo contro Kutua Però porca puttana Anche Lautaro lì di testa, ma cacchio in angola l'ha bene Poi Dzeko ha fatto pochetto Abbiamo fatto un partitone però Poi il Real, l'ultimo secondo Crosdick e Camavinga in mezzo, quello lì del vuolo, vabbè Rodrigo Sempre, 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 sempre Rodrigo Sempre questo ci segna È già la terza volta che ci segna in tre partite Sempre lui Cioè, mi ha rotto i coglioni Ha rotto il cavolo Non ne posso più Segna sempre questo qui contro l'Inter Cioè, non so Male ragazzi Veramente una delusione Perdere così è bruttissimo Perché Stavamo giocando benissimo Una partita stupenda È veramente un peccato È veramente un peccato Non ci resta male perché Se ho, se dici Abbiamo fatto schifo Siamo scarsi Allora ti dico, vabbè Abbiamo perso da 0 al novantesimo Immeritatamente Meritavamo di vincere Però ragazzi Purtroppo le Champions E il calcio a volte sono crudei Non ci si può fare niente Se devi perdere, perdi Purtroppo L'Inter ha sbagliato troppi gol E quello È stata punita Ora l'ha fatto due tiri e due gol No, due tiri e un gol Eh, che ci posso fare io Stora il Madrid non so Ogni volta che ci becca È sempre scurato Stora il Madrid Sì, non ho giocato bene Tutti quelli dell'Inter L'Inter è stata un po' sfigata L'ultimo che non ha letto bene Vabbè ragazzi Ora bisogna pensare solo al campionato Contro Bologna Bisogna ritornare a vincere E stare concentrati Perché questi Inter ragazzi Mi piace Ma Deve essere più attenti In certe circostanze Però ragazzi E la Real Madrid Non mi lamento Però le prossime dicembre Se le voglio vincere Con Sheriff e Shakhtar Bisogna vincere Quindi ragazzi Ci vediamo alla prossima Sperando Ci saranno tante vittorie Nuove per l'Inter Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti